Signore e signori, ladies and gentlemen, il momento è gravido di significati, qui, proprio o qui, su queste tavole già calcate da personaggi illustri, in questo luogo dove hanno preso vita mirabolanti avventure di uomini geniali, in questo spazio dove abbiamo applaudito i frutti migliori della fantasia, ma anche, ammettiamolo, qualche solenne turlopinatura. Ebbene, miei cari amici, in questo circo sognante questa sera batteremo il muro che separa il fisico dal metafisico. Opla, ecco che l'episodio prende tutta un'altra piega. Sopra! E, ci siamo, c'è? Splendido! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! C'è, c'è, c'è! E' pepepaggio, pronti per il decollo? Pronto maestro! Prontissima! Attenti a non svegliarlo, e allora vai! Tre, due, uno... Ecco! Plate! Siamo in buono, maestra! Siamo in sogno, marseo! E ora, sconteniamoci! Compagni, unironauti ai vostri posti di pilotaggio, inviamo messaggi ai nostri addormentati, ma non cerchiamo risposte, casomai poniamo domande. Coloro che saranno in grado di intercettare i nostri poesiti sulle rotte della loro esistenza, ci permetteranno di aggiustarle. Alice, pensa al tuo fiore, da queste parti tira molto vento. Il treno speciale Interzona, con destinazione ignota, partirà dal binario 13 con un ritardo di 6 giorni, 18 ore e 33 minuti. Grazie! 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 Grazie!